amici di onda libera siamo con anna lorenzetti anna ha una grande passione vero più di una tante questa è la principale per lo meno quella che riguarda san costanzo costruisco abiti di carnevale e vado poi a venezia con questi abiti e sfilo a venezia e poi sfilo un pochino dove mi chiamano perché ovviamente sono richiesta in vari posti ma com'è nata questa passione nata in un modo ridicolo perché un mio amico io sono in definitiva per hobby una stilista per cui un mio amico che doveva andare a una festa da ballo mi ha richiesto un cappello per una festa da ballo a carnevale un pochino strano e io ho detto ma che ne so io come come farti un cappello lui mi aveva chiesto veneziano mi ha portato le foto di reuter chiedendomi di copiarne uno ovviamente io non riesco a copiare devo fare di testa mia per cui ho creato un cappello che allora ci sembrava chissà che cosa di grande poi in confronto a quelli che faccio adesso era microscopico ovviamente però insomma è stato avuto tanto successo che lui è stato così contento così ammirato dagli amici che ho deciso di andare a venezia per vedere da vicino come era il carnevale di venezia e ovviamente quando sono tornata indietro già avevo in mente il disegno che avrei fatto del mio primo abito questo era evidente e poi in 30 anni via via ho continuato dato un senso una continuità a questi abiti che faccio quindi ho cominciato a fare abiti completamente di fantasia poi lei c'è tutto un lavoro dietro di studio vero per ogni soggetto indubbiamente per esempio ho fatto il tramonto della luna che è una poesia degli leopardi l'ho fatta per i centenari leopardiani che è una poesia degli leopardi che ho cercato di rendere con delle storie materialmente in un modo visivo cercando di interpretando e di interpretare lo spirito leopardiano poi mi ho cominciato a dedicarmi ai tarocchi perché quelli sono una mia passione intendiamoci non la lettura delle carte il tarocco come messaggio esoterico perché sicuramente i tarocchi visti uno dietro l'altro in fila indicano una via esoterica evolutiva una via evolutiva molto importante e attraverso il simbolismo e questo è una cosa che mi ha affascinato molto mi ha sempre affascinato il simbolismo poi sono passata appunto ai re magi e così via pian piano sto portando avanti questi di questi lavori che sono comunque frutto di soltanto di fantasia soltanto di gusto il gusto di di creare una cosa bella perché il carnevale soprattutto il carnevale veneziano ha una sua eleganza estrema e io vorrei appunto portare avanti questo discorso di una eleganza di una bellezza di un significato perché il carnevale è cultura e ogni popolo ha un suo carnevale e una sua derivazione antica ma c'è un vestito che è il suo preferito? sì indubbiamente sono due uno è la papessa che è tutta fatta di veli piena di veli e tutta coperta con questi veli svolazzanti sulle mani sul cappello che rappresenta l'interiorità il segreto che ognuno di noi ha dentro di sé e questa è una e l'altra è l'etrusca che è praticamente l'unica da cui ho preso spunto da qualche cosa perché una volta ero a Ferragosto stavo leggendo un libro sugli etruschi e c'era la fotografia di una antefissa e ho detto addio questa è la mia perché una menade etrusca in fondo è un qualche cosa che riguarda proprio anche il nostro intimo il nostro amore per la natura per cui ho detto questa è la mia e l'ho rifatta praticamente con tutto quello che avevo dentro casa in una settimana in una settimana ho tirato fuori questa cosa strana ricordiamo anche che i suoi vestiti si possono vedere qui a Palazzo Cassi vero? sono stati proprio donati perché qui finalmente c'è stato qualcuno che mi ha messo a disposizione degli spazi appropriati e per cui io ovviamente devo ricambiare questa cosa così gratificante per me dicendo non ve li porto più via e quindi questi e quelli che farò li ho donati al comune di San Costanzo abbiamo aperto da pochi giorni però sono visitabili quindi faremo così li porteremo a Venezia li porteremo in giro io spero a spasso il più possibile perché adoro andare in giro con i miei vestiti e poi sono visitabili da un sito aperto e chiunque può venire quindi invitiamo tutti a venire a vedere questi bellissimi veramente bellissimi vestiti e la ringraziamo per la disponibilità grazie a voi grazie a voi